bella raga togliete l'eco oggi c'è l'ultima season l'ultimo giorno l'ultimo giorno di season più evento che bei ricordi ma c'è qualcuno dentro almeno dentro ma io molo via raga a me fa arrabbiare un botto perchè pensate agli spettatori vi dovete divertire la gente vuole guardare e buon per loro oh metti i raghi icono là no vai me lo metto vai l'ho messo va vieni arriva ma leo che è inutato su ho compiuto l'atto no raga non si sente niente leo guida malissimo mi ha invitato l'arresta eh invitalo però non avevo un problema eh non è in partita non potevo parlargli ah vabbè fa niente vai in safe leo leo devi guidare non devi provate a tornare nel canale gruppo no no non funge non funge ok mi piace unisciti mi unisco lo Iacon arriva alle 19 e 20 è la scritta adesso sul gruppo eh come ho fatto una combina questa besta eh finiamo la partita andiamo a pusciare raga però togliete l'eco e tutti ste casino di cuffie beh dai leo devi guidare bene ciao v il giusto si muove puzzate oh fammi guidare no 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 abbiamo preso il riii si che l'ho presa io no perchè da tra punti iiii no ha guidato da resta no aria mi stanno stati le ho sentito un po giuno c'è la decidi la giusta regalo vuoi dire nulla ma c'è ragazzo l'acqua che non potete non vede davanti dopo quattro secondi morto le ho scusa mi riesce a scrivere ad arresto sul gruppo di whatsapp che dai io ti prego non ho voglia vai io ti prego ahhh cosa che mi scrivo dare non possiamo parlare ciao papi per il momento perchè le ho perchè sono tutto bugato e sono un subo e quindi adesso vito insta roba che fa eh scusa non mi sta bene si se gente le stanno sparando e viti si sente di nuovo no 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 vedi a mio che cosa aveva lo spazio ma io c'ho il pompa vero ragazzo la grandissima vabbè almeno tu non è un tamburo buona il tamburo ma schifo vuoi suonare eh infatti ma ti toglie 63 ma io sto andando per te eccolo qua vediamo cosa io posso andare a push c'è un player da solo beh che bello che lo vincito ma anche a me piace io ce l'ho io lo spazio ragazzi venite un attimo vi prego ci sono 3 player no 4 mi hanno visto mi fanno mi fanno mi fanno mi fanno se non no mi fanno mi fanno ma io ci fanno un'altra cosa 181 oh franchi eh io ho 20 di vita eh lì o ma c'è gente sto provando a resistere ho 8 colpi ho 8 colpi d'accordo ah non la fanno io ho io ho qua io ho qua dai adesso ho spaventato tantissimo parco godo no 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 leo no no eh vabbè tornate alla lobby leo ricordati che tu devi cambiare il gruppo ogni volta cosa che vuole lo ha ragazzi che vuole lo ha raga mi aspettate vero no raga ok io ci sento manca vincenza adesso inventiamo da resto e c'è anche lui ha però vabbè l'uido c'è vero poi c'è fra 20 minuti arriva cioè fra i 8 minuti noi o ma ti sentiamo si ma che fico bambini è stato sferico nessuno pensa in bambini ragazzo tutto nero no per carità no non per l'obiettivo senta mail e la mail tiktok 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 le tiktok dare no tiktok no da resto no no da resto no no ciao ciao dare persone si no guardare l'evento si no 4 4 4 4 4 4 4 cove dovevo fare non lo sentito dare c'è un eco assurdo e poi c'è in live su youtube abbassa abbassa 9 v v ti vanno ti giuro e allora mi cambio skin perché questa ma un po lo stai con io dare christian è diventato a real gg mette la cinta duale faccio tutto casuale no perché c'è il pappagallo di vincenzo che deve rompere stai zitto vuole un po di attenzioni no no non mi interessa la sua attenzione dagliele tu le attenzioni quando ti sta cambiato a morsi su dagli e tu no credo che chiaramente l'ha indicato no non sta allagando no 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 tranquillo provate a mettere pronto vedete se basta ma sto facendo un attimo 25 fps fissi da nintendo 25 fps fissi e 40 di ping no 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 sto laggando un sacco no raga mi si è bagato tutto devo quittare perché perché almeno mi fa salvataggio aspettate quinto da fornit no me l'ha fatto me l'ha fatto grazie al cielo ma quanto lag aspettate che sta facendo ancora adesso la prendo perché vado basta che ti ha scritto battaglia reale con un tipo come retro il coso di tipo epic leo è intrattieni la live mentre per tre minuti raga non mi vedo più sono cieco raga ho paura sapete come un'unica l'armadietta oh ma si non parlare che sta parlando agli scritti di franzi eh comunque francesca è la persona migliore del mondo si si non è un erro è un erro è un erro no no tranquilli non è un erro no 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 mi spiegavate però io è un erro se volete vi dico dove abita mmm si si così potete andare a spiegare con la scuola la scuola si crede di sua madre mmm mmm e poi non credo più in altro le diamo anche le informazioni di quanti anni ha? no si si ne ha 94 no si chiama Giovanna le no poi che sei fatta una partita? mmm non è partita è capito appena metti pronto però eh ci vuole molto tempo già io non ho due forza milano infatti la io non ho schifo ah 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 mmm mi stai sbagliando mi stai sbagliando forza milano no l'UV è Sì con il fatto l'UV è FantaGama l'UV è FantaGama ecco bravo bravo incenso il suo nome è Francesco Angelini abita a 24,97 42,54 andatelo a prendere subito la cassa di credito di sua madre è 42 988 8482 suo padre si chiama metti pronto? ho messo pronto non è vero si chiama Andrea Musse volevo dire ciao Francine Andrea cosa avete fatto Andrea Angelini avete comprato qualcosa? ha 92 anni mi hai comprato qualcosa? mi hai comprato qualcosa? caspita mi mandi Francesco sì o no? sì sì o no bella la foto giuro che mi sta caricando cos'è? è qualcosa o meno che me ne frega Francesco miei grazie quanto stanno giocando a Apple? ma tutto tuo 2 milioni ma è tutto suo no me è un po' ma non mi ha provato sì me lo puoi insegare come non mi ha ammattivare me lo puoi insegnare me lo puoi insegare me lo puoi insegnare crepi questo è papaya e raga allora abbiamo qualcosa da dire qua io ti devo picchiare adesso ti picchio a rate mettete pronto che stiamo finendo l'evento e non posso perché dare leo da parte che non vanno i server e poi devi andare in canale partita e poi leo spiega cosa perché dobbiamo andare in canale partita a perché non lo so perché leo è bagato e non si sente ok ma anche se rangeranno tutti gli altri come che ho appena scoperto fare il video di kawasaki e scrive letteralmente il video tipo i pinguini della macchina del modo che lo scarro e ma dai e non lo sapevo leo ragazze manco tempo dell'evento c'è già il trailer del capitolo 5 già visto veramente si è già visto devo vederlo io non lo voglio vedere leo non ti è arrivato che cosa il regalo che ti ho fatto adesso no no non arriva io ho mandato mi ho mandato quello lì di stranger things il balletto con l'azione telecinetica mi presento la mia squadra vincenzo tizio strano franci capogruppo io tizio strano la modalità non è più disponibile davvero si è appena uscita scritto disattivato disatti ma va aspettiamo tra poco te ne devi andare che sta entrando lo jacono non volevo essere troppo cattivo troppo cattivo l'ho messo in faccia così che ne lo sputi che ore sono 19 e 20 ti sentiamo a basso non va più niente che figo questa nuova season non dire niente raga ma c'è no ma c'è in tre non dire niente ah raga vanno le mappe vanno alla creativa stai zitto stai zitto stai zitto stai zitto io lo mu stai facendo no ma come è mutato bene chi è mutato franzi vincenzo perché cosa si fa dicendo perché sta continuando a dire ah ma questo c'è una cosa dentro il nuovo evento oddio cos'è cos'è ah ah se bagna sono io vanno a indovinare la coda è piena raga ma questa è la rivoluzione di forte ma cosa sono tutti gli stermi figheri raga e comunque se stai parlando dell'evento bisogna parlare di quello che ci sarà come si può dire ci sono 3 milioni 3 no 4 milioni di persone solo a giocare a battaglie normali le moto sono nuovi veicoli troppo usciti proviamo ah ma il treno è tipo stai zitto temporaneamente offline no ma bro tutto temporaneamente offline mi è venuto tutto si anche no no stai zitto stai facendo l'evento fare le live sull'evento perché non parlare di quello che ci sarà no perché poi la gente non lo vuole sapere ma tante l'avranno già visto tutti anche perché su youtube dai vai dillo se gli altri vogliono io l'ho vista chi è uguale io sono rimasta traumatizzata dopo averla vista cioè è una persona vinta fissile arrampicamento sui muri fighissimo attaccio spigia ci si può rapicare i cittadini tipo apes ok i veicoli fighissimi provate a mettere questa che magari va ma cos'è raga ma c'è una città che assomiglia tipo a sì a me va dobbiamo recuperare bananita hai capito sì infatti mi hanno rapito bananita raga ma da con non ci si scordi la pochiera è cara raga ma bananita non si fa raga non si fa bananita non si fa ma quando si ok puoi e la prima persona c'è ma non c'è la prima persona non si possono cambiare no ah no non è la prima persona scusa fosse il mirino scusa lei fighissi con gli attacchi si può cambiare le armi si può mettere il silenziatore ci sono gli attachment quella promosa attachment che tipo metti il mirino il caricatore più lungo no raga è tutto chiude pieno vabbè aspettiamo tanto parliamo ma quanto caspita ci viva il fatto che ci si può arrampicare questo è bello spiderman spiderman e poi scusa puoi fare rispidermi quanto caspita è socciso posso anche arrampicare tutto la sfida è fire è un vero salatore guarda 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 che poi il fatto che ci si può colare è troppo bello ci sono un sacco di armi che ci sono già state ma io non ho capitato oh sta partendo ragazzi sta partendo ragazzi sta partendo non parlare dei nuovi veicoli sono troppo fighi si c'è una gip c'è tipo il gip no c'è una ferrari ragazzi no è una lamborghini non è una ferrari ma voi capite che c'è la vigilia state entrando si anche io ragazzi ragazzi mi sa che c'è la prima persona mamma mia mattino basta fammi parlare un secondo ma io anch'io ho visto entrare un dritto di parola quando c'è il momento in cui sparano in prima persona eh eh no ma è tipo l'MK7 no ma hai visto la mano a fianco ma raga c'è una mano c'è una mano ma raga stai entrando ragazzi che sfiga che è come tipo coda 25 minuti no no se vuoi ma raga comunque come non sento andrò c'ho tipo freddo no se potete iniziate senza di me brutti stronzi no mi dispiace eh vabbè ce ne faremo una ragione vedi vi devi non devi mai perdere le speranze lei sta entrando madonna ogni volta ma io glielo ho detto allo Iacone di entrare prima lui ci mette sempre sei anni dice no cioè io gli ho detto io gli ho detto entrate alle 19 e un quarto dentro sono dentro di culo ciao ciao amici mettiamo le cose in chiaro cure non valgono e si può fare solo loot casual vuoi ripetere cosa ho detto? si può fare solo loot casuale e niente cure random loadout sempre ogni volta che morite è random loadout cos'è? i migliori loot wow come si fa random? il latte ho tolto 83 no e lo russo scordatelo no no come si fa? no 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 come si fa a fare la cosa random dietro di te ok oh mio oddio oddio vincenzo ha iniziato a evitare malissimo ahhh come si fa a fare ahhh 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 ma d'ora c'è un loot bello cosa c'ha? con la gano bro iiii iiii ahhh 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 ho capito ma non siamo ancora dentro l'evento aspetta anncì mi senti? ok allora ma a parte gli scherzi ma quanto è diventato quanto è diventato fai go sè adesso noi entriamo nell'evento e ti invitiamo e no olio si ma quello non serve a niente e tu ad essere dentro eeee oeeee uée eee uscite 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 tutti immediato subito dove non sta caricando sta caricando sta caricando sta caricando sta caricando big bang big bang eccolo 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 uscite 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 veloci da resta veloci ok mettete pronto sto uscendo fermi scusate è vero la da tutti la deve dare a tutti e quando dopo che partecipato all'evento ok state uscendo ricca di raga però bisogna partecipare no 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 che equipaglia si si non me ne freddo si ok ci siete tutti leo cosa ci sono ci siete tutti mettete pronto si la fermi fermi aspetta mai non sto a corrido fate un sacco di di tutti pronti leo pronto aspetta dai calmi calmi ce la facciamo che ce la facciamo calmiamoci calmiamoci ti metto anch'io pronto intanto non c'è un problema mi stanno a fare tipo complimenti hai sbloccato quel soggetto complimenti hai sbloccato del soggetto riscattano riscattano ma adesso deve uscire per forza se no si bagno come hai fatto a indovinare leo puoi leo ti supplico leo ti vogliamo all'evento vai metti pronto veloce ma a me soltanto me non ha dato la skin no no la da dopo leo metti pronto ha detto tipo non possedio non è stato quello ma leo ma quanta figola leo metti pronto sto mettendo pronto c'è scritto ricercatizzando venti ok ok ci siamo ci siamo ci siamo c'è lo iacono 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 lo i La coda è piena attendi Francesco Che è? Sì Leo Aspetta Adesso vi posso dire la mia teoria Per cui secondo me c'è la prima persona Vai, sentiamo Sapete quando c'è il pezzo in cui inizia a sparare agli altri Che c'è un sacco di rinculo Sembra che sia in war Boh non lo so Sta entrando Di tutte le altre armi in cui c'era l'irinculo della persona Non c'è la mano Quindi secondo me c'è la prima persona Ok Entrate Muoviti No non a voi In generale Sta laggando un botto Sta laggando un botto Ok Ok Dai ti prego Ti prego Fornic Ti prego Sì Inizializzazione viaggio server Preparazione Sto entrando Io sto entrando Sì 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 Raga voi Leo Già forse intorno Ok 325 minuti Vinci Non ti sentiamo basso Aspetta Sì aspetta un attimo Stai calmo No è perché poi non facciamo insieme L'ultima volta che ho fatto un evento è andato tutto male Fa niente Devo neanche Andrà bene questo Ok Stai calmo Aspetta No ha detto Mi ha tolto pronto Mi ha messo unisciti Allora Metti unisciti Fai unisciti Avvia Ottimizza la tua esperienza Assicuriamoci che l'audio e video sia Avvia Ok Non avviare niente Avvia è una cosa qua La partita in cui stai cercando di entrare al completo No No Eeeh Niente Ma Leo Tu dove stiamo andando Sto entrando Allora Dai però Vincenzo C'è una scelta Ma io te lo dico Io quando faccio il evento Sono sempre il suo Tu prova a fare unisciti ogni volta Magari quitta qualcuno Deve per forza quitta Magari quitta qualcuno Mi fa Vabbè Io nel frattempo Oh ci sono cose da ascoltare C'è roba da ascoltare qua Cosa c'è? Boh c'è una roba da ascoltare Leo quando stai entrando dici Ma Non c'è un'acqua di carica il vento Oh no Cosa c'è? V Dove è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Oddio Vincenzo lo vedo dentro Si è verificato un errore No Adesso piangono Leo entra Leo entra Ti prego Non me lo perdo io su questo evento con te Non me lo perdo io l'evento con te Forza Leo In qualunque modo dobbiamo entrare Allora Odore in cui si è cercato di entrare il completo Ma che cazzo No Adesso perché non ti ha pulito la del cubo? Prova a continuare ad entrare Prova a continuare Hai 25 minuti Leo Si Non posso entrare No Perché? Cosa che ti dice? Tipo Io sto provando la mappa No Leo allora Scusa Per non perderti l'evento Guarda mi dispiace Però Ti consiglio di farti un gruppo te da solo E facciamo il party No il party no La videochiamata Esco da su Vado da su Vai 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 No piuttosto almeno non te lo perdi Tanto Sì Tanto chi se ne frega Leo Cioè alla fine basta che te lo vediamo Cioè Facciamo una videochiamata Così come lo mettiamo Sì sì Leo Leo ha già quitato sì Eh ve lo speriamo Sì Leo ha quitato Tu fa la videochiamata Eh lo fa Leo secondo me Ok Ah ma io ci sono Eh tu sì Leo no Eh poverino Perché Vincenzo doveva entrare? Tutta colpa di Vincenzo Sono stato in 20 20 20 20 Vede a Ah 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 Franci 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 I già state provando a fermare il radolo No Ho raggiato No Come nel vecchio Non c'è Sono un albero parkurista I Io inizio a fare la videochiamata con Leo Bloccate il radio Bloccate il radio Eh easy Aiuto No Ok Leo Aspetta che invito gli altri Raga Togliete il microfono Cioè No Leo La coda è piena Aspetta Aspetta Fidati Eh raga Eh Togliete l'audio Sì Entrate nella videochiamata Qui c'è Buongiorno Buongiorno Da resta Manca Vincenzo Vincenzo Devi entrare Vi non ti sentiamo Sei basso di volume Vi c'è il volume basso Oh Togli le cuffie E' mutato Eh le ho Perché? Perché? Come fa? Non mi fa che me la schede Mi fa che la schede Non mi fa che la schede Non mi fa che la schede